Con un cane di grossa taglia si avvicinano in due ad una signora all'uscita da una pizzeria e uno dei due cerca di rubarle il portafoglio denunciato dalla polizia. Il fatto risale lo scorso febbraio ma gli agenti della volante diretta dal commissario capo Giuliano Ciraldo hanno chiuso le indagini solo nei giorni scorsi. Denunciato un giovane classe 1981 originario delle Seychelles ma italiano già notte alle forze dell'ordine per reati di questo genere. La signora era uscita dal locale in via La Marmora quando è stata minacciata ed è tornata dentro il locale. Un signore è intervenuto in suo soccorso intrattenendo due finché la signora non è riuscita ad uscire in sicurezza. L'episodio è stato però segnalato alla questura. Gli agenti della volante grazie alla descrizione iniziale hanno ben presto compreso chi potesse essere l'autore del tentato furto. La signora non è riuscita a riconoscerlo dall'album fotografico predisposto dalla polizia scientifica ma le indagini sono proseguite e gli investigatori hanno rintracciato un testimone che si è rivelato fondamentale per identificare il responsabile e denunciarlo per tentato furto. Nei giorni scorsi l'Ufficio Generale Prevenzione e Soccorso Pubblico ha invece denunciato gli autori di due truffe informatiche. Si tratta di due italiani con precedenti specifici. Il primo classe 1976 residente a Cienignola, il secondo classe 1947 di Pescara. Il modus operandi è identico in entrambi i casi con oggetti che venivano messi in vendita online a prezzi vantaggiosi. Dopo il pagamento da parte del cliente però il venditore spariva e il bene non veniva consegnato. Nel primo caso si trattava di uno scutem e il secondo di una computer Apple, entrambi al prezzo di 320 euro.